L'assessore Eugenio Seccia fa il punto della situazione dopo il maltempo e la violenta grandinata del 10 luglio scorso su Pescara. 85 milioni di danni e 11 mila le domande di risarcimento presentate. Insomma a piovere stavolta dovrebbero essere non i chicchi di grandine come palle da tennis ma i fondi per i risarcimento che il governo dovrebbe concedere per riparare strade, edifici pubblici, edifici privati, autovetture. Le domande sono state circa 11.600 ovviamente comprendono sia le cittadini che sono persone fisiche, privati, comuni cittadini sia coloro che esercitano attività di impresa nel territorio del comune. Possiamo anche dare una stratificazione di questi valori perché una parte dei danni è dovuta alle autovetture che hanno subito anche dei danni e per quanto riguarda i privati circa 15 milioni e 600 mila euro di danni per quanto riguarda le autovetture di privati. Gli immobili dei privati invece ammontano a 49 milioni e mezzo circa mentre le autovetture di tipo aziendale un milione e mezzo di euro. Invece per gli immobili strumentali dell'attività di impresa anche questi 11 milioni e 700 mila. Adesso aspettiamo che ovviamente gli iter burocratici vadano avanti. Il 31 luglio il comune ha trasmesso alla regione Abruzzo quelli che sono i dati per essere poi trasmessi alla protezione civile che ovviamente dovrà riconoscere lo stato di calamità naturale e quindi attendiamo lo stanziamento di fondi per ristorare i cittadini pescairesi. Sulla base storica diciamo che circa l'80% dei danni subiti dovrebbe, uso il condizionale che è d'obbligo, essere ristorato con un contributo per i danni subiti. Anche coloro che effettivamente hanno una assicurazione privata ovviamente saranno ovviamente non cumulati risarcimento perché altrimenti ci sarebbe un indebito arricchimento però la parte di franchigia scoperta dall'assicurazione potrebbe essere diciamo rimborsata come contributo della protezione civile per l'80%. Il dubbio è vedere ovviamente se le automobili sono comprese o meno in questo contributo che darà la protezione civile però ovviamente dipende dal conto centrale, dallo stanziamento e dalle decisioni che prenderà la protezione civile centrale. È ovvio che 85 milioni di euro su Pescara non mi sembrano poca cosa, la parte politica farà di tutto per attivarsi, ci sono dati storici precedenti che sono stati danni ben minori e c'è stato il riconoscimento.